Mi chiamo Fabrizio Tencone e sono un medico specialista in medicina dello sport e in particolare in traumatologia dello sport, quindi nella diagnosi e nella cura degli infortuni sportivi. Sono stato per moltissimi anni medico della Juventus Football Club e da 18 anni sono medico e direttore del centro isokinetic di Torino. Ho una grande esperienza nel calcio e secondo me conoscere lo sport aiuta molto, anche noi medici nella diagnosi e soprattutto nell'aiuto all'atleta al ritorno allo sport, però no, non mi interessa solo di calcio, seguo un po' tutti gli sportivi ad ogni livello, sia i sessantenni che come me vogliono tornare a giocare a tennis oppure i grandi atleti e le medaglie d'oro olimpiche. Da sempre io mi sono interessato agli infortuni del ginocchio, non sono un chirurgo, non opero, mi interesso della parte che arriva prima, cioè della diagnosi dell'infortunio o della parte successiva, cioè del recupero dopo l'infortunio stesso ed è proprio nel programma di recupero degli infortuni e degli interventi di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio che io ho la maggiore esperienza ed è importante anche perché ci sono sempre innovazioni anche dal punto di vista scientifico. Oggi per esempio non si parla più di tempi di recupero dopo un infortunio, tornerai a giocare dopo 5 mesi, dopo 6 mesi, ma si parla di completare il programma di cura e tornare solo quando si è veramente a posto, quando il dolore è scomparso, quando il ginocchio si muove completamente, quando il muscolo è recuperato, quando sono recuperati la coordinazione e anche il gesto atletico. Questo oggi è il modo corretto di completare il recupero di un infortunio anche per evitare eventuali rei infortuni. Certo, vi accompagno, quella che potete vedere è la reception, è la sede di accoglienza dei nostri pazienti. A seguire i pazienti vengono accompagnati negli ambulatori medici dove noi medici visitiamo e programmiamo le cure e le cure vengono eseguite in quattro diversi ambienti. Questa è la piscina, molto bella, la temperatura dell'acqua accogliente. Ecco la palestra, la palestra iconica con stucchi, particolarmente bella. La green room, la green room è una palestra tecnologica unica per il gruppo Isokinetic dove si studia il movimento e si migliorano gli errori del movimento stesso. E infine il campo, il campo di riabilitazione dove noi completiamo e collaudiamo il lavoro finale con la ripresa della corsa, i salti e tutti quelli che sono i gesti sportivi.